Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo video della casa di Mattia. Dunque, visto che l'altra volta abbiamo fatto vedere come piegavo gli asciugamani e ora devo piegare il lenzuolo, vi faccio vedere come piego le lenzuola. Dunque, prendete le punte degli angoli della parte in fondo, mettendo il lenzuolo per la lunghezza, non per la larghezza. Quindi, prendete le due punte, camminate fino all'inizio dell'altra parte e prendete le altre due punte, le unite. Questo è un lenzuolo matrimoniale, non fatevi ingannare da letto piccolo, io uso un lenzuolo matrimoniale. Poi, una volta unito, lo giriamo invece nel senso della larghezza, quindi le riporto così, le stengo un pochino e poi, scusate, comincio a piegarle prima in due e poi in quattro. fatto così, lo divido in tre parti, una, e voilà, è il lenzuolo piegato. Poi, la parte più menosa da piegare è il lenzuolo con gli angoli. Io mi faccio aiutare sempre dall'appoggio del letto in questo modo. Prendo un angolo, passando dall'esterno verso l'interno, vado a cercare l'angolo opposto e lo infilo dentro. Tiro bene e faccio bene, prendendo in fondo in modo da avere questo risultato. Poi prendo l'altro angolo. Questo se lo fate dei piedi è più comodo, ma qua. Devo farlo così, lo rigiro e faccio la stessa cosa. Quindi, faccio in modo di infilarlo bene e di avere questo. Una volta fatto questo, vado ad unire i due punti. Sono dimenticato un passaggio. Vado a prendere questa parte e la giro in modo tale da creare qua i due angolini così. Poi tiro tutto per bene e vado ad unire questo punto con l'altra parte. Ora, poi una piegata. Due piegate. Uno e due. E la federa. Uno, due, tre, quattro. Ci vediamo in prossimi video. Ciao! Ciao!